Noi siamo costituiti per ordinare la comunione attorno all'unica fede che ci viene confermata dal successore degli Apostoli, ma non si tratta solo di un impegno che riguarda formalmente, canonicamente il nostro ministero. Tra di noi si deve vedere che passa questa relazione sacramentale come presbiterio, per cui chiedo al Signore la grazia di un'amicizia presbiterale, di una santa collaborazione. Lavoriamo tutti per la stessa finalità. E quindi vorrei chiedere anche, da questo punto di vista, l'intercessione di colei che presiede la comunione nella Chiesa. Se la comunione è il dono dello Spirito, noi non possiamo dimenticare che Maria Santissima è la madre della Chiesa. E come madre, lei presiede anche la comunione della Chiesa. Ricordiamolo sempre, ecco perché ogni discepolo ha avuto in consegna la madre, ma a maggior ragione i discepoli che vengono conformati a Cristo, che dà la vita per le sue pecore livelle. Hanno particolarmente una relazione con la madre. Come vi dicevo, è un po' di più, è un po' di più.